telefono 130 della mia collezione che cos'è apriamo la scatola completamente bianca è un bellissimo veramente bello telit o gm 810 si chiama un telefono veramente splendido considerando che la tastiera dopo tanti anni è praticamente perfetta sia per ergonomia che per cliccare i tasti lo schermo non è di dimensioni tanto compatte lo vedete che sta perfettamente nella mano forse questa antenna qua che sporge anzi lasciamo il forse è sicuramente molto scomoda telit era un brand che aveva nella ricezione un punto vero di forza e vedete che in realtà le dimensioni non erano poi così enormi è in più piccolo dell'iphone ovviamente quello che faceva la differenza era lo spessore che era tutt'altra cosa non parlo di caratteristiche tecniche perché in realtà questi telefoni servivano principalmente per chiamare e messaggiare nulla più vedete che la curvatura del telefono è appena appena accennata per un buon appoggio al viso forse un altro difetto detto lettera la fidabilità non era così eccezionale ve lo posso assicurare sul campo